E alla fine spuntò l'amante. Dopo il coming out di Tiziano Ferro era praticamente inevitabile l'inizio della corsa ai potenziali amanti del cantante. Il primo della lista è stato Daniel Derio, cantante argentino mesciato e a quanto pare innamorato del nostro Tizianone. Daniel ha spiegato di aver avuto una relazione sentimentale con Ferro durata circa otto mesi, al termine dei quali sarebbe stato cornificato e lasciato da Tiziano. Si aspettano ora le reazioni del cantante italiano, che nella lunga intervista a Vanity Fair aveva sostenuto di non avere rapporti sessuali con uomini e donne da oltre dieci anni. Tranquillo Tiziano, noi crediamo a te.